ciao allora oggi review vi mostro un piccolo ordine che ho fatto la settimana all'altra a sabrina cristalli ho preso le famose super duo ho visto molti i vostri lavori e ho deciso appunto di acquistarle per sperimentarle anche io perché la curiosità è veramente tanta quindi niente vabbè mi sono rivolta a sabrina io poi nell'info box metto il suo link per il canale facebook dove appunto potete acquistare e poi so che sta aprendo comunque anche un sito internet che è in fase di costruzione ma ben presto sarà comunque utilizzabile ecco per fare ordine quindi metterò sotto eventualmente anche il link sotto appunto all'info box allora cosa dire inizialmente di sabrina è una ragazza veramente disponibile ti aiuta in ogni fase dell'ordine ti consiglia colori misure insomma comunque ha del materiale veramente ottimo e infatti al più presto dovrò fare un ordine di swarovski e so che con lei andrò a colpo sicuro e niente insomma detto questo vi faccio vedere appunto che cosa ho preso appunto super duo ho preso 10 grammi per ogni colore anche se mi sono pentita perché di alcuni avrei preferito magari prenderne 20 però vabbè nell'ordine che farò posso comunque aggiungere intanto adesso per sperimentare diciamo di così ne ho è il tempo che manca vabbè niente vedremo di trovarlo allora vi mostro i colori vabbè dal vivo sono molto più luccicosi è molto più carini e qui comunque trovate il colore che mi ha il nome del colore che ho preso ecco mi stavo già impaperando e niente questo qua un bella acqua marina pensavo che fosse un po' più chiaro però devo essere sincera che così mi piace davvero tanto è un bel colore e niente quindi ho preso 10 grammi di queste 10 grammi di questo colore qua spero che lo vediate che da una parte nero da una parte silver bellissimo ho preso il famoso silver che è bellissimo ha una fa una luce che veramente veramente stupendo quindi questo è il il nome poi ho preso cristal ab normale che anche queste sono lumi luminosissime veramente adesso sta andando via il sole quindi insomma i colori sono un po' così riesco a farvele vedere così però credetemi quando vi dico che sono luminosissimi poi ho preso queste che sono anche queste la fine del mondo questo apollo gold mamma mia che belle ma che belle sono bellissimi insomma voi le vedete un po' più scure però vabbè bella anche queste e poi ho provato a prendere queste qui le olivi in picasso opac che sono belle anche questo diciamo che qualcosina di carino esce fuori quindi queste sono le super duo che ho iniziato a provare poi ho preso delle daghe perché ne avevo prese tante anche da da perle s& co ma non avevo trovato questo colore bellissimo sono daghe 3x11 se non ricordo male ed è un crystal matte mamma mia sono stupende 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 poi ho preso questo cabochon se non ricordo male 3 mm ho preso il colore crystal ecco non mi viene in mente gold shadow ecco se non faccio paper anch'io nei video non sono contenta e quindi vabbè insomma tutto normale e niente insomma è veramente veramente luminosissimo e bello questo qua lo voglio tenere per me lo incastonerò e mi farò una collana penso nel mese d'agosto perché devo fare già troppe cose il tempo veramente non c'è e poi lei mi ha omaggiato ma veramente gentilissima anzi Sabrina se vedi il video grazie 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 perché è bellissimo veramente guardate cosa mi ha regalato questo cabochon di questo colore che mamma è bellissimo non l'avrei neanche mai preso perché pensavo che era un colore che non mi piacesse invece è unico farà un anello per me che penso che mi invidieranno tutte tutte le mie amiche e niente insomma grazie Sabrina grazie di cuore il tutto ovviamente era accompagnato da un relativo scontrino era una bella busta imballata e niente che cosa dire che vabbè io sicuramente devo lavorare ne ho di cose indietro effettivamente da fare che prima o poi riuscirò a far tutto e niente altra cosa fate fate ordini da Sabrina perché la qualità è garantita e poi ha anche un'infinità di colori di dimensioni di cose io parlo anche di Swarovski che è unico e poi c'è queste aste che fa o del comprasubito un tipo di comprasubito che trovate magari anche delle occasioni insomma andate a visitare la sua pagina facebook e prossimamente anche il suo sito internet e niente detto questo al prossimo video con creazioni vi mando un bacio ciao